Una volta davanti al mare di Caolonia, perché non è possibile che arrivi questa merda che tutti i giorni ci sia la merda nel mare e nessuno fa niente. A me non interessa se arriva da Riace, da Alla o da Lorto, ma è inconcepibile che ci sia merda nel mare tutti i giorni. Fate qualcosa, salvate almeno il mare. Se non volete il turismo, salvate almeno il vostro mare. Ciao da un bergamasco deluso da tutto ciò.